Rek & Play L'acqua in testa 2012 è la realizzazione di un videoclip professionale curato dall'associazione 080, organizzatrice del contest con la collaborazione del liceo scientifico Scacchi di Bari. Abbiamo intervistato due degli organizzatori, Anna Donghia e Raffaele Nicoli. L'idea è proprio questa appunto, di creare un collegamento più forte tra l'istituzione scolastica e tra i ragazzi, aprire un po' quello che è il mondo dei ragazzi, del loro tempo libero, delle loro passioni come quella musicale appunto, condividere questa passione nell'ambito dell'istituzione dove si trovano tutti i giorni. Il senso della manifestazione è quello appunto di veicolare tramite il linguaggio universale della musica quella che può essere la cooperazione fra le band, l'integrazione dei ragazzi all'interno del territorio e soprattutto di far vivere un'esperienza il più professionale possibile a ragazzi che si affacciano per le prime volte nell'ambito dello show e della musica in generale. Anche per quest'anno l'entusiasmo è molto e le aspettative saranno sicuramente soddisfatte. Anche per quest'anno l'entusiasmo è molto e le aspettative.